Quando avrai venduto le bestie, marrai meno di questo pezzo di legno rinsecchito. Senza radici non sei più niente. In cambio del nostro servizio, ci dai una parte del tuo futuro salario. Quanto sarebbe? Solo la metà. Asi sua! No, esi sua! Esi sua! Addio, è in bocca a lui, primo viaggio. E allora trova una soluzione. In fin dei conti è stata tua l'idea di partire. E io dà mio fratello. Eri troppo vignacco per dirglielo. Il signore vorrebbe sapere chi e che cosa vi ha portati qui. La speranza. Noi andiamo in Svizzera. Eh, nel paradiso sulle montagne. Eh, Svizzera. Perché questo castigo di Dio? In nome di Dio veniteci a prendere! No! 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 Grazie a tutti.